è mio figlio è un figlio di una mignotta però ho portato al palco hai 8 7 e mezza 8 è finito non è il soggetto lo mettono sotto tutti dedicati come il padre è il soggetto allora ragazzi non so se è una mia sensazione ma premetto che non seguo più come prima stiamo avendo cambiato completamente tematica tipologia di canali infatti la risonazione riserva pubblico pochissimo e avendo totalmente cambiato tipologia e genere non seguo più questi personaggi come prima però ho notato il brasiliano un po cambiato da quando ho adottato questo cagnolino lo vedo non lo so più più sereno più leggero infatti avete visto il mio figlio e io ci credo comunque che una persona vuole bene i cani come se fossero figli fratelli perché io personalmente da 7 anni un cagnolino è guai che me lo tocca per una persona magari attaccata ai soldi come brasiliano una persona diciamo che sarebbe stato disposto per quello che circola sul web a vendere proprio letteralmente anche la madre per soldi secondo me stare con un cane con un cagnolino poteva solo che farli bene spero che continui così vi dico la verità